Sì, una gara spettacolare, quindi insomma si miscono lo spettacolo e lo sport, vogliamo costruire un grande evento e stiamo lavorando sui grandi eventi, anche sportivi, sempre anche in prospettiva a giochi di candidature ai giochi del Mediterraneo del 2025, sono piccoli tasselli che si aggiungono in questo bellissimo puzzle sul quale stiamo lavorando per costruire eventi sportivi che dirichiamo, dirichiamo almeno un regionale, in questo caso siamo ad eventi di richiamo nazionale e ci inseriamo in un circuito importante, una bellissima collaborazione, come sempre la Marina stra presente in tutto quello che facciamo, quindi la collaborazione con la Marina, con le ASD, quindi da queste collaborazioni io le sottolineo sempre, possono nascere solo cose belle e importanti per questa città, stiamo cercando di fare in modo che soprattutto cresca il rapporto imprescindibile tra Taranto e il mare, il mare per Taranto è una ricchezza, abbiamo il trofeo del mare, questo fa un po' da prologo alla festa del mare, perché poi alla fine è una vera e propria festa del mare, abbiamo il pario di Taranto, insomma tante iniziative che uniscono in modo ancora più solido Taranto e il suo mare.